Il bilancio del commissario tecnico della Nazionale Fausto Scotti per questa giornata che ha visto sì vincere degli stranieri ma un Gioele Bertolini che si è misurato alla pari fino alla fine. Il Bertolini è veramente un ragazzo entusiasmante, sta crescendo di forma sempre di più, ha portato e ha onorato il ciclismo italiano. Abbiamo cercato questi stranieri proprio per dimostrare comunque che è bene avere un po' di rivalità con delle persone abbastanza interessanti. Gioele è giovane e sta crescendo molto, sicuramente farà molto bene alla prossima prova di Coppa del Mondo. Sono molto soddisfatto di tutta l'organizzazione, la giornata ha tenuto, ho tantissimo pubblico, il Giro d'Italia CE sono contento e quindi continueremo ad andare avanti su questa strada. La risposta del pubblico è stata davvero straordinaria, questa è una terra dove la passione per il ciclocross è davvero viva. Beh, Rossano-Veneto è la paria del ciclismo, il ciclismo in assoluto, non me lo vogliono le altre regioni ma comunque è stata sempre la pioniera del ciclocross. Quindi sono molto soddisfatto, veramente ripeto, del pubblico a corso. Un ringraziamento all'amministrazione comunale e a tutti i nostri sponsor che veramente ci aiutano perché comunque sono appassionati come noi. Grazie a tutti.